bentornati amici siamo qui per concludere la nostra panoramica della cartella brushstrokes abbiamo l'ultimo effetto che è sumi e non mi ricordo come si dice in italiano sam mi sembra che sia comunque lo riconoscete anche per via dell'icona questo finalmente è un effetto che secondo me è un pochino più utilizzabile perché andiamo a mettere tutto a zero anche se non abbiamo la foto originale ovviamente abbiamo una cosa un pochettino più confusa però vediamo che in questo caso lavorando soprattutto sulla pressione del tratto perché altrimenti se facciamo l'opposto non succede quasi niente infatti qui non è cambiato praticamente nulla allora nel momento in cui andiamo ad aumentare la pressione vediamo che stiamo finalmente dando un effetto un po fumettoso che quindi questo sì che secondo me è utilizzabile già da solo poi se andiamo ad aumentare il contrasto secondo me andiamo quasi subito a esagerare però in questo caso dipende anche da questa immagine che è ovviamente molto contrastata perché contiene un'ampia fetta di cielo e un'ampia un'ampia fetta di vegetazione in ombra quindi sicuramente su altro tipo di immagine il contrasto si potrà usare un pochettino di più la cosa interessante è che qui a me va proprio a dare un effetto mi ricorda proprio le vignette di qualche vecchio fumetto sicuramente applicando prima magari un qualche tipo di sfocatura e poi questo filtro che comunque va a definire perché in questa maniera qui andiamo anche ad aumentare a dare risalto ai contrasti applicando questo in unione ad altri filtri sicuramente possiamo ottenere un effetto molto gradevole una volta che l'abbiamo applicato possiamo anche andare con un bel livello di regolazione curve possiamo andare a cercare di mitigare questi queste ombre troppo scure potevamo farlo anche prima in realtà anzi sicuramente era meglio andare a lavorare su un'immagine già trattata una volta che applichiamo il filtro è meglio avere l'immagine già con la luminosità giusta però può sempre essere che il filtro introduca delle variabili per cui vogliamo andare a lavorarci ulteriormente anche dopo ecco una cosa del genere secondo me abbiamo ottenuto un effetto molto caruccio forse ho esagerato facciamo 80 per cento direi molto meglio sicuramente possiamo tenerlo in considerazione per qualche lavorazione se si dovesse realizzare una tavola con delle vignette tutte realizzate in questo modo secondo me brutta figura non la facciamo ecco